Cosa cambia nel 474? Inizialmente poco, Giulio Nepote viene eletto imperatore e cerca di stabilizzare l'impero romano d'occidente, o meglio quel poco che ne rimane. Le sue direttrici sono principalmente tre. Stipulare un trattato di pace con i Visigoti, che hanno occupato gran parte della Provenza, ma grazie a un accordo con Giulio Nepote che gli concede alcune città, ma in cambio ottiene una pace che restituisce all'impero romano le altre, tra cui la capitale Arle riescono appunto a giungere ad un accordo di pace. La seconda direttrice è verso sud, verso il regno dei Vandali, che si sono insediati a Cartagine e che stanno terrorizzando e razziando le coste dell'Italia grazie alla loro flotta. Anche con loro Giulio Nepote fa un accordo, questa volta molto più dispendioso perché è costretto a cedere loro le isole, la Sardegna, le Baleari, la Sicilia, in cambio della pace. La terza direttrice è l'esercito. Giulio Nepote si rese conto che senza un esercito valido, che si riprendesse dalle distruzioni degli anni precedenti, perché Roma aveva subito tutta una serie di attacchi dal 400 in poi che avevano dissanguato l'esercito, difficilmente ci potrà essere una salvezza per Roma. Cosa cambia questo punto rispetto alla realtà? Cambia ciò che successe quando ci fu la rivolta contro Giulio Nepote. Romolo Augustolo quando sostituì Giulio Nepote non era che un bambino e venne messo sul trono dal padre Oreste, un patrizio proveniente dalla Pannonia, che prese il potere grazie all'appoggio del Senato. Bene, in questa timeline succede la stessa cosa, cioè Oreste cerca di prendere il potere, cerca di raggiungere Ravenna, di catturare Giulio Nepote, ma questi, a differenza che nella nostra timeline, fugge verso nord, non in Dalmazia, e qui incontra Odoacre, re degli Eruli. Odoacre si trova già in Italia, si trova già in Italia insieme ai popoli che guida, e si trova già in Italia perché è già un soldato romano, già ha chiesto di poter ottenere delle terre per i suoi uomini. Ebbene Giulio Nepote, che vuole sconfiggere Oreste, decide di concedere, di concedere a lui il titolo di Magister Militum dell'Impero e di concedere ai suoi uomini di stanziarsi almeno in una parte dell'Italia del nord. Ricevute queste rassicurazioni, Odoacre marcia verso sud, chiede alle sue armate, Oreste gli si fa incontro, ma viene sconfitto e ucciso a Piacenza, tra l'altro come nella realtà. Grazie alle truppe di Odoacre, Giulio Nepote rientra prima a Ravenna e poi raggiunge Roma, dove sottomette il senato, riesce peraltro ad eliminare molti dei senatori che gli si opponevano e riconquista in pieno la porpora imperiale. Siamo nel 476 d.C. La differenza è palese. Giulio Nepote, a differenza che nella realtà, questa volta è appoggiato e al tempo stesso appoggia Odoacre. L'Impero Romano d'Oriente è in parte nel caos. Zenone, che è succeduto al figlio Leone II, che a sua volta era succeduto a Leone I, si trova in piena guerra civile contro Basilico e ci metterà qualche anno per poterlo sottomettere e riprendere il comando. Questo vuol dire che per almeno due, tre, quattro anni nessuno potrà opporsi a ciò che succederà in Italia, anche se è difficile pensare che possa succedere perché, dopo tutto, Giulio Nepote, avendo sposato una figlia di Leone I, che era il suocero, peraltro, dell'imperatore Zenone, ebbene difficilmente andrà in opposizione proprio con l'Impero Romano d'Oriente e probabilmente Zenone, finita la guerra civile, tornerà ad appoggiarlo. Zenone, finita la guerra civile, tornerà ad appoggiarlo.